Andiamo! Cadranno anche loro, come l'Impero! Forza! L'Ordine crede di prenderci alla sprovvista. Forza, togliamoli come si deve! Siamo troppi uomini, fate attenzione! Vengo con voi! Slenata! Arma automatica pronta! Combattiamo! Slenata! Arma automatica! Arma automatica! Buona automatica! Servенти! Via dalla? Abbiamo l'assalto! Lancia! Nemico a portata! Ecco là! Torretta pronta! Torretta pronta! Un poco rapido, nemico! Torretta pronta! Arriva I tuoi! Vanno le secondi! Torretta pronta! Il costile è rilevato! Torretta pronta! Arma automagica posizionata! Granata! Non gli daremo scappo! Torretta pronta! Cadranno anche loro come l'impero! Il dietro sta arrivando! Avanti così avremo sicuramente la meglio! Prendete questa granata! Oggi il primo ordine è fuori forma! Altre nemici in arrivo! Forza! Ti soffro io! Andiamo! Sono passati in vantaggio! Arma automatica pronta! Arma automatica pronta! Non possiamo scappare! Combattete! C'è ancora da fare! Arma automatica pronta! Altrimentica pronta! Non lo faremo! L'ho fatto! L'avete visto? L'ho fatto! L'ho fatto! L'ho fatto! Corretta in posizione! Perdiamo troppi uomini! Fate attenzione! Ricordate le parole del generale! Questo è per voi! Arma in funzione! L'orrenta schierata! Granata pronta! Granata pronta! Al vostro fianco! Arma automatica posizionata! Armaunta pronta! Deviam! Antonio lasciani! Come and covers! L'ordine non avrà questa zona tanto facilmente. Torretta attiva! Sono rimasti in bolli! Torretta attiva! Torretta attiva! Torretta attiva! Torretta attiva! Correggio! Correggio! Non vedo altri rinforzi del primo ordine sullo scanner, perfetto! Torretta attiva! Grazie a tutti.